Buongiorno a tutti gli datori, a noi non c'è un'otterezza, che significa che non c'è un'otterezza? Quando uno non c'è un'otterezza, non c'è un'otterezza, non c'è un'otterezza, non c'è un'otterezza, invece vede sempre a tutti, un saluto. Beh, passiamo alla prima notizia. Voi sapete che sto a schiantare tutto l'albero della Ligia, tutto l'albero della Ligia, e ad ammettere l'albero della Ligia, l'albero della Ligia, l'albero della Ligia è giovane. Mettete a dare. Ecco. Poi, questo è proprio il virus delle castagne, sì, non sai quanta tonnellate di castagne stanno in questa città? No? 2.000. 2.000 tonnellate di castagne in questa città per questo virus. Guardate a stare a vedere tutto questo virus. Dintetemi che in Italia le tre spiagge più popolari sono tre spiagge pugliese. La prima spiagge è quella che all'albero della Ligia, come miglior spiaggia. E poi sto andando a spiaggia. Logicamente, qui da qua non c'è acqua stessa. Ussiva, tutto quello che ha scelto. La vita sarà tutto l'altra. La malattima. Attenzione alla fulmone. Steno fulmone a pigliato un uomo. Mentre chi ha avuto a pigliato un sacchetto di caos. A percorrere un gitto. E a stare pigliato da steno fulmone. E a stare manata in terra. Insomma, stare attendo alla fulmone. Beh, finalmente... Ma Noè, se sento l'odore di pesce. Si, se sento l'odore di pesce. Beh, arriva nella fulmone. Finalmente si porta la fulmone radiattiva. Addirittura i tacchi di fulmone sono pure la radiazione di Chernobyl. Finalmente è arrivato a 9 milioni. E ora sono a porto di questa cosa qua. Buongiorno. Buongiorno. Sono a porto di questa cosa qua. E... E Renzi, Renzi ci ha fatto. Ha detto a Attenzione. Che sai qua che cosa parla. Ma io devo capire. Fai capire. Non c'è una persona honesta. C'è un segretario che mi ha dato un sacco. Non sappiamo che è tutta una cosa combinata. Oh! E c'è oggi la legge lettorella. La voglio dividere in due. Sì, voglio fare una proporzione. O maggioritaria. Mize e mezze. Insomma, non lo sappiamo che manca l'ora. A coprire, che la mischia, l'acqua. Beh. Ah, a proposito. A giugno arrivano la neve del turista. Mi raccomando tutto il ristoratore. Preparate. Apri il ristorante. E non venite la faccosa anche per la crisi. E date la roba fresca. Non la roba di settore. La secce bella fresca. E a garbara. Ah, sapete loro. Niente di me non hanno fatto i passeggiati per la canna. La canna. Non ci vogliono cuccare niente più. Vogliono costruire i taccoli. Alla sede ai taccoli. Alla c'è cacca. E vi. E a due momenti di scritta. Facciamo vedere la scritta. C'è scritta. C'è scritta. La malasanità. Efficiente. O 118 a tardi. Come efficiente. Così le chilame arrivano su. Hanno ripetuto i detenuti in sé. E hanno cercato un'aiuto. che non ci sono contavano niente più di queste cime. Insomma. Sono pratici. E' vero che queste qua. Che sono colori. Che camminano. Però diciamo. Come dice. Il suo lavoro. E' merda è bello. E' semplice. Vabbè. Comunque. La sala d'italiano. E' efficiente. O ballone. O ballone. O ballone. O ballone. L'avete dice. L'ordine. Mi hanno detto. Che Cotard. Ha sceso per colpa delle giornaliste. Si. Dice. Che le giornaliste. Non si fanno mai le fatte loro. Che le giornaliste. Si scraffano le fatte persone. Ma non. E' così. E' che vedrà col piano. Noi amici. Se non sono giornaliste. Non sono proveniente. Beh. Vabbè. Ci vanno. Ci vanno. Ci vanno. Forza tardi. A cercare di bere. E' questo. Che ci sono speciale. Bella. Fresca. Allegra. Come mi piace a noi. Oggi. Foglie. A zuppa. Peperoni fritti. Carciofi. sott'aceto, melizzate, sott'olio, ci metterò per stuffare con un pane di Bernardo e poi non li toglie da ricci e poi non li toglie da ricci e poi ci ha passato un po' e poi pesca il peccò che c'è passiamo alla sala, una tassi del caffè e poi in due portafoli un saluto a 12 giovanni a Ressa, a Caliere, Cifarello, Cavallo, Benef Coberta, Albano e Pizzol e a Cumbar Madunone che non ci mi ha portato un film pornografo e beh, se vu allora la notizia l'abbiamo fatta, la salute l'abbiamo fatta ad una notizia l'abbiamo fatta, la salute l'abbiamo fatta a Stato